Quanti sono passati invece sul lettino di Cristian Lorenzini, fisioterapista azzurro? Quanto è stato difficile, dottore, in questa settimana a lavorare con gli azzurri, ma soprattutto quanto è bello vivere questa esperienza con gli atleti della Nazionale? Sì, diciamo che è sempre bello e soprattutto emozionante. Infatti anche la poca voce, proprio perché le emozioni di questi giorni sono state tante, quindi le urla, diciamo, non si sono risparmiate. È sempre bello perché è bello vivere una grande atmosfera con questo gruppo in generale e affiancati ancora da professionisti di altissimo livello e portare i ragazzi, diciamo, a raggiungere i risultati sperati è sempre un piacere. Diciamo che nel nostro piccolo diamo un contributo a queste medaglie.